Facciamo rosolare lo scalogno con l'olio d'oliva. Poi sai cosa mi incuriosisce di Sara? Dicono che sei bravissima a cucinare. Basta, ci rinuncio. Speriamo meglio di come io suono perché... ... 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